ci sei? ma lei è un mago? ciao ovviamente che sono mago, venile dai siamo tutti qua, venile venile ragazzi ha allevato pull l'ultimo componente della fam... ok vivremmi chi sei? ora siamo qui stoi ciao giallo, vai, vai, vai ciao giallo su un arturo, vai, 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 vai innanzitutto vi presento un nuovo membro del gruppo, giallo, giallo ciao, ciao ragazzi ciao ciao buonasera buonasera vediamo se è resistente che fa? non puoi ma basta ma basta però diamo dei nomi buonasera scusate ho una domanda la ragazza come si chiama? cioè per capire si chiama bianca si chiama bianca 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 e nero piacere che simpatico cazzo ti sta fottendo la ragazza scusate bianca Jeff è fatto ancora vieni un attimo con me posso farti una foto al culo? ma no ok scusa io ho chiesto chat aspetta aspetta devo fare una foto alla ragazza con il telefono no 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 te la passo io te la passo io ah vai passa aspetta aspetta stai ferma mazza mazza che tette oh ok oppure un sacco di piedi se ti piacciono vai vai girarmi i due piedini se riesci oh ma di chi sono questi piedi? è di fragolina oh mamma mia vieni qua vieni qua forca troia scusa che simpi questo giallo sta calma stai calma questo giampiero oh ma stai calma stai calma tu oh stai vieni qua no 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 ho male ho male ho male Bianca, non puoi tirare fuori la pistola a ogni cosa che succede, cioè, è proprio sbagliato. Ora mi faccia molestare. No, sono giallo io. Ragazzi, non ti cosa ho giallo. No, giallù. Dove vai? Mi vuoi picchiare? Allora, attimo, giallo, vieni. Allora, dove morare, vuoi fare squadre perché ci vuoi stare... Ma te sei velocissimo. Ehi sta. Ma finita sta... Sì. Che c'hai? Che è? Eh no, c'ho dei malori. Finita sta... Stava pagliacciata delle macchine. Ma lo vuole mora via? Ma chi è la tipa? Sto cazzo. Oh, st... Oh, vieni qua. Non lo so chi vuole stare. Oh, non so che paura. Oh. Vai, scegli, dai. Pesce, dai, pesce, scusate, ragazzi, eccomi. Eh, ma non male. Che c'è, frate, ma c'avevamo la macchina di pippo. Signori, signori, vi presento le persone che oggi ci daranno... Ma beccati sti stronzi! No, ragazzi, nella sua lingua significa ciao, belli come state. Esatto, esatto. Perché, no, 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 stronzi. Cosa mi faccio un selfie? Con uno di voi, mi sembra, per metterci d'accordo sulle macchine da guidare. Noi, noi faremo a coppie da due ogni macchina. È un problema. Ci sono sei coppie gay ci sono qua. Io sì. No, baccaio co, baccaio co, basta, baccaio co. Se è bassano con la panda, io voglio questa. La panda è la carina. Fratino, fratino, posso venire con lei? No, Arturo. Ah, scusa, Arturo, scusa, Arturo, scusa. Ah, ok. Questa piotta, pure questa non mi dispiace. Dobbiamo decidere la macchina. Scegli tu. Prendiamo questa? Lo sei preso. Sembra la più da gara. Vuoi guidare tu? Sì, certo, certo. Allora, ok, mi raccomando, eh. Magari è importante. Ma ci manca su. I'm an underdog. No, 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 è uscito G, è uscito G. Aia, aia. Desculpe. Desculpe. Ho sbagliato il tasto, volevo cliccare G e ho cliccato F. Desculpe. Io penso che questa macchina non la possiamo più usare. Direi di tenere là, non c'è visto nessuno. Tenere di là, tenere di là. Mi sono fatto un attimo male. Andiamo, andiamo. Tre, due, uno. Vamossi! Vai, fratix! Vai, fratino! Andiamo lentissimi. No, no, no. Fatti la montagna, fatti la montagna. Aiuto! Vai, Sebastiano! Ma che mi sembra valentissima? Ma, oh, qui si è fatto, ma... Ma no, 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 perché nessuno ti vede, sembri lento, ma in realtà superi tutti, vai tra. Ti posso cantare due canzoni melodiche, eh? Ma gli altri vanno a 200, vai. Con quella donna gorda, mi fa girare la testa... Oh, aia! Aia! Mi perreo! Mi perdo! E niente, niente. Che dolor, madre mia! Io sono sempre fatto, Bell. Ma posso fumare anche io? Con quello da fumare? Sì, sì, ti passano belli, santo capra! Che ne pensi? Eh, vedo... Sì! Porca, bro, è stato tutto fatto! Ragazzi, tira un pugno io sto stronzo di merda, stronzo! Come fare, sì? Stron... Chi? No! Niente, niente, niente. Dai, Giallo, vinciamo questa gara, mi raccomando. Ci tiriamo un pugno a testa, per favore? Non ci possiamo tirare un pugno a testa, perché potremmo avere un tramato a crani che dobbiamo andare in macchina adesso. Lei ha pienamente ragione, ma se nessuno ci vede? Ma non... C'è un piccolo segreto, è un piccolo segreto. Ma non sarà un segreto tirarci due pugni. Ce li tiriamo dopo se vinciamo, dai, 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 Giallo, non ti devi preoccupare. Ti seguo, posso? Non puoi seguirmi, la macchina è da tu, Giallo. Dai, per favore, guidiamo, guidiamo, guidiamo. Posso? Eh? Vai, investimi, stronzo! Giallo, calma, ti ho detto di prendere le tue pasticche, dai, giù. Dai, sali in macchina. Sì. Sta di miglia, vuoi vedere? Allora, calma, 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 grazie. Posso, 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 posso. No, bravo, posso, posso, posso. Oh, sono spaventato. Pare, casini, grazie. Calma, calma. Ma perché c'è la pistola alle mano? Non mi spara dal lero. Fratino, ma perché è così nervoso quello dietro? Non lo so, siciliano. Il claxon, il claxon. Ragazzi, scusatemi, ho fatto un bordello. Ragazzi, 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 ragazzi. Scusa. Ma io come mi intiego, che forza che sparo? Crea un bordello, un maneconto, ho sparato con una micchia di pistola. Che gra... Ragazzi. Che cazzo hai fatto? Che minchia sono tornato a Napoli. Cos'è successo? AIA! BORG! Ok, quando spara partiamo? È un po' lenta sta gara, eh? Quando sparo partiamo. Non tu, non tu. Ma siamo... 3, 2, 1... Bomboclappone. Ma stai... Oh, succomincherà! Ma è con me che c'è? Ma è con me! Mi fa girare la testa! Mi fa girare una testa! Ho faiscire la testa! Con le tue gamette! Ti spero di ancora! Oh.. Francis! Giù la pistola! Francis! Io ti tremmelo 500 entire! Forza, fuori da co***e! Non sparare! Io sparo quello che m**** voglio, chiaro? Niente! Stai guidando, figlio, te su una minchia Mi stai distraendo, te stai Poi è una polizia, è pieno da poliziotto Francis parla sempre così tanto Mi vuoi girare la testa Il CD non vuoi sapere che tu mi appartiene Perché mi piaci tu Se il CD te stai Basta Francis Vabbè un attimo che lascio un attacco orbitale a quelli qua davanti No, 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 no Ma mi minchia sei Francis, tu sei veramente Stai confermando lo stereotipo dei siciliani mafiosi Basta Mi minchia da aspettare Pardon, tu ci devi Porco demonio, ma puoi veramente fare sempre la stessa mincata Oh Francis, ma quanto cazzo parla, Francis Puoi veramente fare stessa mincata Francis Niente frattino Ma veramente compagno Levate dimensamente India che ora pensi se sei la sburoia Chi ti ributtava Fermatevi tutti Chiamati Cambia macchina Difficilissimo Da guidare Non c'è un piccolo fix Che sei un Aiuto 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 Giallo Sono giallo Giù È occupato Sal Salga 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 Vabbè 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 Ma vatterà No che ha vinto amicizia Ando sta anni sordi Quanti cazzo di tu hanno vinto I Life is girl I No Vincere Oh Oh Stronzo Scusa Scusa No Stronzo 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 Via 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 Risolvo Io Faccio io Tranquilli Ciao Tranquilli Tranquilli Faccio io Ragazzi Via Via Devo salire Dove Devo salire Via 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 Vai Parti Sei solo Scusa Scusa Sono Si Si B Speaker Quint is Deve Ma Giorni skandal Mario Sturnolo Vall S sagt Allora Cantiamo Baby Ad Justin Trova Bay faccio premiazione abbiamo vinto quindi signori ho un regalo per giambio erdius solo così non dico niente non dico niente per giampiero erdius pippo e sebastiano io piccolo pesce pregano domanda direttamente la ragazza ragazzi abbiamo un annuncio attiriamo l'attenzione iniziamo a orgasmare iniziamo a orgasmare ok pronto più alto più alto vai sei pronto ragazzi 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 ma sei solo te chiama gli altri chiama gli altri chiama tutti chiama tutti chiama tutti ragazzi 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 attenzione ragazzi attenzione tutti qua tutti con le mani in alto per favore tutti con le mani in alto vai 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 ci sei marcus da ritornello aspetta ok fai 1 2 arrivo dalla francia origini francesi facciamo sesso il ragazzo il ragazzo il ragazzo ci facciamo qualche giro ti nella cassa come si chiama geiano va bene ok in quale cassa nella tua casa tanto le servirebbe perché sennò io toglia marcus no avete intenzione di fare qualcosa di grosso in città di? beh si c'è in traduzioni grosso quando? fate pallare abbastanza potesse mantenere diciamo magari un bel brillone con un paio di buttare dentro non è che farebbero schifo non balla a mezzanotte dove? vediamo altre 4 9 3 4 9 segnale? no segno io l'ho segnato io segno la memoria bianca ma lui è un soldato oddio questo vuole uccidere buona maschera 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 va bene non c'è sti sordi Artù eh beh no su scherza ecco perché diciamo che sono soldi un po' così ecco mettiamo così che bello che be ricordi però devi stare un po' più attento sai che mi piace ho soldi che vanno che sono riciclati già un po' è nero perfetto vado un po' di foto vado un po' di foto ma lui non le sa queste cose non so non so soldi neri non ha senso ragazzi ragazzi ma per capire non ho soldi soldi normali cosa sta succedendo? e perché sono i soldi neri? no 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 c'è Jeff dai vabbè è inutile è inutile parlarvi mazza che vecchia di merda no 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 scusa aiuto ho colpito mi sbaglio ho colpito mi sbaglio come va? nonna non si 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 scendi vieni qui non vieni un attimo boom non toccati non vieni un attimo scusa non mi sono fatto prendere l'emozione scusa fartino venga un attimo venga un attimo con me fartino mi intriga molto la vecchia me l'avete impegnata c'è la vecchia eh sì c'è la vecchia no 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 è single è single cioè quindi possiamo andare che belle parole possiamo andare l'abbiamo fatta esplodere bellissimo ma facciamo esplodere anche lei non lo diceva nessuno non lo so segreto no in realtà l'abbiamo già fatta esplodere che è sopravvissuta lei ok ma possiamo ok cosa le posso dire cioè dammi un ti posso dire ciao bella troia cosa le posso dire no 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 è comunque giapponese ah quindi ha un po' di capito un po' di pudore un po' di rischio ok ha un po' di sudore si chiama ping ping si chiama ping e quindi vado lì e cosa le posso dire ciao bella puttana no 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 perché è giapponese ok è molto rispettosa capito puttana arturo vieni qua oh che bella io sono io ma che fa lei ma non faccia una foto non faccia un video io ho già fatta e te ma siete malati siete ma come no 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 bellissima ping signora ping come cazzo ma io signor pelatone oh vecchio di merda vecchio di merda stronza vecchio di merda vecchio di merda scusa stronza sta vecchia di merda ma sta vecchia del cazzo fermo fermo bravo non toccare la vecchia tu signora ho rischiato la vita ragazze ragazze ping ragazze ragazze possiamo fare ma come possiamo fare un trisom no grazie ma come no sono sposata con arturo no ma intendevo ping infatti ping è il marito ping signora ping nonna ping nonna ping possiamo far sesso no lei lei mi può scopare nonna no non potrei l'hanno visto c'era oh casino vai ma dove sono ma chi salve 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 ma che stai a fare qua calma scusa un po' sta macchina per favore bello bello sto movimento ma a wenig a yen a a a a a a a Aaaaaah!